Una bella soddisfazione personale e poi di squadra perché oggi avete fatto una gran partita, soprattutto nel primo tempo. Al di là della soddisfazione personale, ringrazio chi mi ha premiato, ma penso che sia una vittoria molto importante per la squadra. Questi tre punti arrivano dopo un tanto lavoro settimanale, abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli, sapevamo la forza del Pescara e l'importanza della partita, dei singoli del Pescara che hanno molta qualità, ma abbiamo contenuto bene le loro avanzate, abbiamo saputo punire quando c'era bisogno di punire. Soprattutto se è stato determinante in quella situazione lì di Mischi in area di rigore. Sì, sono molto felice, ma abbiamo lavorato tutti bene, da squadra, dalla difesa, centrocampo, gli attaccanti hanno fatto un grande lavoro per noi, tutti, non posso dire altro. Avete colpito il Pescara, forse nel miglior momento del Pescara, quando fisicamente stava prendendo un po' tanto campo la formazione di Zeman. Sì, siamo stati brevi a ripartire, sapevamo che concedevano un po' ovviamente il contropiede. Nel primo tempo abbiamo avuto anche due occasioni molto importanti, ma non le abbiamo sfruttate, però abbiamo lavorato di squadra, tutti compatti, ripartendo, abbiamo fatto un grande lavoro, soprattutto di grinta. Che cosa significa questa vittoria nel derby per Pineto? Ovviamente il derby è sempre in derby, il primo derby del Pineto sappiamo che non era una partita come le altre. Tre punti sono come tutte le altre partite, rimaniamo con i piedi per terra perché sappiamo che il cammino è molto lungo ancora per arrivare all'obiettivo, ma ci godiamo un po' questa vittoria. Grazie a te!